Grazie Presidente, la nostra interrogazione affronta il tema della crisi Trenvalder, la società di lavoro interinale che ha sospeso i pagamenti della mensilità di settembre ai suoi dipendenti, cioè a tutti quelli somministrati a diverse aziende della nostra regione. Ed è diretta a sapere se la Giunti intende affrontare questa vicenda e se influisca rispetto all'accreditamento delle società private di lavoro, non solo ovviamente quelle di intermediazione, ma il regime di accreditamento che risulta essere in corso. Per il resto aspetto di ascoltare la risposta. Grazie. Grazie Consigliere, la parola al Sottosegretario Rossi. Sì, gentile Consigliere Sassi, come ho già avuto modo di rispondere al collega Cagliandro, a fronte di quella che è un'avvertenza che si aperte in virtù del mancato pagamento degli stipendi, la chiusura di alcune filiali, abbiamo deciso in accordo con il Sindaco di Modena, che è il Sindaco che ospita la sede centrale della ditta Trenkwalker, di avanzare presso il Ministero una richiesta formale per l'apertura di un tavolo ministeriale di salvaguardia occupazionale, anche in virtù del fatto che, come lei sa, e come ricordavamo prima, le regioni interessate da questa vicenda da Trenkwalker e dai quasi 10.000 occupati riguarda appunto diverse realtà, oltre a quella dell'Emilia Romagna. Per quanto riguarda invece le altre due questioni, in particolar modo rispetto al sistema di accreditamento, anche in virtù del superamento di quelli che sono i centri per l'impiego. Il sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro non è ancora stato approvato in via definitiva dalla nostra regione, ma la proposta di sistema di accreditamento in questo momento è sottoposto alla concertazione con le parti sociali, secondo quanto previsto dalle due leggi regionali, la 12 del 2013 e la 17 del 2015. In tale proposta, però, sono previste regole di carattere finanziario e patrimoniale al fine di verificare la solidità dei soggetti che richiederanno l'accreditamento. Si precisa infine che le prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati non saranno sostitutive, ma complementari alle prestazioni erogate dai servizi per i lavori regionali, dai soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale, realizzando in complesso la rete attiva per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto per il lavoro, sottoscritto dalla regione e dagli attori principali, stakeholders istituzionali, il 20 luglio 2015. Grazie, Sottosegretario. La parola al Consigliere Sassi. Sì, grazie, Presidente. In ogni caso, comunque, abbiamo letto nei comunicati dell'azienda e delle organizzazioni sindacali che gli stipendi a settembre dovrebbero essere pagati ai lavoratori e quindi questo ci fa molto piacere. Ma questo purtroppo non significa che la crisi sia passata né che questa crisi sia uguale a quelle altre crisi di aziende della nostra regione. Crisi, lo voglio ricordare, che non mancano, anzi sono molto numerose, sono difficili, sono a volte prolungate, colpiscono duramente l'occupazione, la produttività e il reddito delle miglie romane. Questo, invece, ci fa piacere proprio il fatto che la crisi interessi un soggetto che dovrebbe fare del lavoro degli altri il proprio lavoro. Non ci fa piacere il fatto che la crisi si abbia interessato questa volta un'impresa meccanica, ma chi dovrebbe fare il meccanico del lavoro, dell'occupazione. E ci preoccupa perché la strategia di questa regione sul lavoro si stanno rilevando, come abbiamo detto in altre occasioni, inefficaci e inconcludenti. In certi centri per l'impiego, il sistema pubblico dei servizi è passato da pochi mesi alla regione, li gestiamo tramite l'agenzia fatta, nasce appositamente per questo, li gestiamo pagando stipendi e bollette con più di 7,2 milioni di euro di soldi nostri, regionali e fondo sociale europeo, mentre prima, quando dipendevano dalle province, del Ministero del Lavoro, dello Stato, quindi ricadevano il bilancio dello stesso. La gestione, lasciando l'incertezza, lo gestiamo lasciando l'incertezza ai lavoratori di tempo determinato, che scadranno a dicembre, uno su quattro di quelli in forza, Bologna, Rimini e Modena, gestiamo una macchina che, malgrado l'impegno e la professionalità dei lavoratori di centri per l'impiego e la marginalissima fetta di mercato del lavoro regionale, li gestiamo pensando di affidare alle agenzie private per il lavoro, come la Trenkwaldwalder, numerose funzioni che ormai i centri per l'impiego non sarebbero più nelle condizioni di svolgere. Li gestiamo costruendo un sistema di accreditamento in questo campo, anche se le regole applicative sono ancora in lavorazione, lo stesso accreditamento da anacquare con una autovalutazione, quando si parla di servizi per l'infanzia, come propone il progetto di legge della Giunta sugli asili. Li gestiamo senza sapere dove andare, a cosa fare e navighiamo a vista. Perché il mercato del lavoro di Emilia Romagna è quello dove i voucher vengono usati al posto di lavoro normale. Da qui credo che la crisi anche di questa agenzia sarà sempre più spesso marcata. Dove si assistono a un'ulteriore esplosione del ricorso ai buoni lavoro, dove i contratti di apprendistature stagionali per minorenni, quelli derivati da un bruttissimo articolo che avete voluto approvare a tutti i costi, a fine maggio ha prodotto forse 51 contratti, mentre i numeri diventano milioni se si parla di voucher. Questa è la Regione che è stata contribuendo a costruire autovalutazione invece di accreditamento, voucher invece di contratti privati in difficoltà, e ci dispiace per i lavoratori delle aziende ovviamente, invece che servizi pubblici efficienti ed efficaci. Ecco, è proprio l'efficienza che manca in questo campo. Consigliere, la rivista conclude. Concludo. L'efficacia per la formazione professionale, lo confermo nei nostri dati, l'efficacia del sistema di accreditamento che vuole essere anacquato, l'efficacia dell'innovazione normativa, visto che i voucher si mangiano il lavoro buono, l'efficacia del nostro servizio pubblico per il lavoro. Questo è quello che riteniamo stia minando la stabilità anche di queste aziende che dovrebbero preoccuparsi del lavoro altrui e non solo. Grazie. 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 Grazie.